Era come un Dio, come? Dico ma come sarà? Questi non vanno al bagno, questo niente, come l'è stato? E una volta ho fatto tutto un coraggio e ho domandato alla zia e dice come sono? Come noi? Come noi? Dico ma fanno i figli pure? Certo le donne fanno i figli come le mamme nostre, è naturale, ma nient'altro poi? E no, nient'altro, tutto qui so come noi, ma perché gli americani vanno pure al bagno, fanno il bisogno, fanno? E certamente dice sono cristiani come noi e io sono rimasta di questo.